Crescita personale Collaborazione Integrazione Partecipazione I mondiali antirazzisti sono un luogo che utilizza lo sport come una sorta di laboratorio per mettere insieme la gente diversa e far sì che possano trovare un momento di comunicazione tra di loro La cosa più importante che abbiamo capito durante questo progetto è quanto sia importante partecipare Grazie Grazie Grazie